Ciao a tutti, ben arrivati, we like volvera, munia, ICD, Ilaria Mundo. Bentrovati per questa nuova lezione di yoga giapponese. Come anticipato, oggi, già un'altra volta oggi, lavoreremo esclusivamente sul secondo elemento, che è l'elemento della terra. Quindi, l'altra volta precedente, abbiamo lavorato sul metallo, sul polmone e intestino crasso. Sicuramente avete ripetuto ogni giorno la sequenza di esercizi per lavorare sull'elemento del metallo e da oggi iniziamo, diciamo, la settimana lavorando sulla terra. Quindi, vi raccomando, anche questi esercizi fatele ogni giorno. Trovate mezz'ora per essere proprio larghi, 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 per dedicare il vostro tempo a questo elemento e vedrete che piano piano ritroverete il benessere. La terra lavora su due, anche questa, su due meridiani molto importanti, che sono milza pancreas e stomaco. Che cos'è? Con due parole, la terra. La terra è quell'elemento che ci permette di trovare stabilità, di trovare sicurezza, permettendo all'uomo, permettendo appunto, una crescita sia fisica ma anche spirituale. Immaginate un albero, un albero alle radici, che se sono belle forti, belle solide, permette all'albero di crescere in maniera meravigliosa, quindi di essere bello forte e avere comunque dei frutti, piuttosto che dei fiori, molto belli, molto genuini. Quindi, mi raccomando, lavorate bene su questi esercizi e ripeteteli ogni giorno. Trovate un momento della vostra giornata e sicuramente riuscirete, quindi forza e iniziamo a lavorare. Allora, iniziamo per prima cosa con degli esercizi che permettono di attivare l'energia del nostro corpo, ma anche proprio a livello fisico, quindi energizziamo un po', mettiamo in moto il nostro fisico. Quindi facciamo la sequenza di esercizi, sempre i soliti che facciamo, la sequenza base, e poi iniziamo con tutti gli esercizi nuovi dell'elemento della terra. Ah, dimenticavo, che cosa abbiamo bisogno oggi? Innanzitutto, tranne uno, sono esercizi che facciamo a terra, quindi come sempre trovate il vostro spazio a terra, oppure sul letto, tranne per uno appunto che ci metteremo vicino alla porta. E poi abbiamo bisogno di due cuscini o anche uno, un cuscino piccolino, in questo caso, non tanto spesso, comunque più o meno così, e un cuscino in forma allungata, più o meno dello spessore di 10 centimetri, che utilizzeremo anche questo per un altro esercizio. E ovviamente la coperta, perché visto che comunque è una giornata uggiosa, molto umida, in casa ci sarà un po' di umidità, di frescura, quindi vi conviene per la fase finale del rilassamento di, appunto, coprirvi. Quindi mettete già da parte una coperta. Nel caso non avete un cuscino lungo come il mio, prendete appunto la coperta e la arrotolate, in modo da fare spessore, più o meno di circa 10 centimetri, che metteremo poi per uno degli ultimi esercizi finali, sotto la schiena. Bene, io direi di iniziare, quindi tolgo il mio cuscino, e ci posizioniamo, come sempre, iniziamo con un esercizio, l'esercizio posizione supina, quindi pancia in su, distendiamo tutto il nostro corpo, cerchiamo di ottenere il più possibile il contatto con la terra. I piedi che guardano il viso, ok? Quindi le dita dei piedi sono verso il viso, bene, il mento verso il petto, e le braccia sono distese lungo le orecchie, al fianco delle orecchie, in questo modo. Respiriamo tre volte. Uno, ricordatevi il respiro, due, l'aria entra dal naso, tre, raggiunge l'addome, l'addome si gonfia, poi l'aria esce, l'addome si sgonfia, l'aria esce dal naso, dalla bocca. Poi prendiamo le mani, le incrociamo, le mettiamo sotto la testa, nella nuca, avviciniamo i gomiti, alziamo il capo verso il petto, i piedi rimangono sempre nella posizione di prima, tre respiri, uno, due, tre, il capo e il mento sempre in questa posizione, le braccia anche, prendo, piego le ginocchia, appoggio i piedi, bene a terra, alzo sul bacino, respiriamo, uno, due, tre, un ginocchio per volta, prendo e lo porto verso il petto, respiro, uno, il capo rimane sempre fermo, due, tre, appoggio di nuovo il piede a terra, alzo l'altro ginocchio, uno, due, tre, appoggio il piede a terra, appoggio il bacino, appoggio il capo, distendo le braccia, inspiro, sempre ginocchia piegate, giro il bacino, appoggio le ginocchia a terra, su uno dei due lati, cerco di mantenere sempre il contatto, con la schiena e la terra, giro solo il bacino, uno, due, tre, espirando porto di nuovo le ginocchia al centro, faccio dall'altro lato, inspiro, espiro, porto le ginocchia dall'altro lato, giro solo il bacino, schiena a terra, uno, due, tre, dalla posizione del fianco, mi giro, mi metto in ginocchio, appoggio le mani a terra davanti a me, distendo bene le braccia, appoggio il capo a terra, appoggio il naso e fronte, respiro, uno, due, tre, espirando, porto sul bacino, distendo le gambe, mi appoggio bene sulle braccia, mani appoggiate a terra, respiro tre volte, viso verso l'alto, uno, due, tre, espirando, porto indietro il bacino, distendo di nuovo bene le braccia a terra, appoggio il naso e la fronte a terra, respiro, uno, due, tre, e sciolgo, perfetto, ora decido se rimanere seduto in ginocchio, gambe incrociate, oppure mi siedo su un cuscino, io ad esempio preferisco questa posizione, lavoriamo, iniziamo a fare gli esercizi della terra, lavoriamo con il collo, dobbiamo fare quattro circonduzioni, quindi disegnare dei cerchi con il capo, due a destra, due a sinistra, mi raccomando, lentamente, pensate sempre che state lavorando sui meridiani della terra, quindi, misa pantas e stomaco, respirate, chiudiamo anche gli occhi, inspiro e ispiro, uno, due, giro per il collo, e poi nel senso opposto, uno, lenti, ampi se riuscite, oppure anche piccoli, l'importante è che il vostro intento è sul stomaco, inizia a pantas, secondo giro, e stop, bene, scioglio bene le spalle, ora, se siete seduti su un cuscino, toglietelo, rimanete seduti, con le gambe incrociate, oppure cuscino, nel caso in cui, non riuscite poi a distendere bene il braccio, che andrà sotto i glutei, prendetelo di nuovo, io non ho problemi, perché comunque, essendo in formato piccolo, il mio braccio rimane ben disteso, senza l'aiuto di un cuscino, allora, adesso scegliamo, il lato destro, il lato sinistro, intanto lo facciamo uguale, identico, in tutti e due i lati, quindi io prendo, la mano sinistra, la porto, dalla parte opposta del capo, quindi verso la parte destra, e vado con le dita, e la mano a toccare, ad aggrapparmi, proprio sotto l'orecchio, sotto il lobo dell'orecchio, c'è un osso, del cranio, quindi mi prendo, diciamo, mi aggrappo a quell'osso lì, con l'altra mano, la mano destra, prendo, e la metto sotto il coccige, il coccige è un osso del, dell'ultimo osso della spina dorsale, del sacro, quindi il capo è verso sinistra, l'altro braccio invece, è sotto il coccige, a contatto, respirate tre volte, se il braccio destro, quindi quello che va sotto il coccige, non è ben disteso, a questo punto prendete un cuscino, respirate tre volte, uno, due, tre, tolgo il braccio sotto l'orecchio, tolgo l'altro da sotto il coccige, faccio la stessa cosa dalla parte opposta, quindi, mano destra va dalla parte opposta del capo, va a finire sotto l'orecchio sinistro, dove c'è l'osso, quindi mi aggrappo lì, mano sinistra sotto il coccige, respiro tre volte, occhi chiusi se possiamo, così ascoltiamo cosa accade dentro di noi, uno, respiro due, tre, e al terzo respiro sciolgo, ora ripetiamo questo esercizio altre due volte, parte destra e parte sinistra, solo che la mano che andava sotto il coccige, a contatto col coccige, andrà sotto l'ischio, l'ischio è quell'osso nella coscia, nel gluteo, e quando vi sedete sentite proprio che è in punta, quindi proprio sul gluteo, quindi se mettete la mano lo percepite, di nuovo, mano sinistra verso l'orecchio destro, mi aggancio, mano destra sotto l'ischio, respiro, quindi è uguale identico all'altro, ma cambia solo la posizione della mano, uno, due, tre, sciolgo, faccio cambio, quindi mano destra sotto l'orecchio sinistro, aggrappa, mano sinistra sotto l'ischio, respiro, uno, due, tre, e sciolgo, ora se volete potete rimanere seduti così, in ginocchio, seduti su una sedia, sul cuscino, e lavoriamo solo sul dito indice, sia della mano destra che della mano sinistra, quindi prendo la mano, quella che voglio, io ho preso la mano sinistra, la porto con il palmo rivolto verso l'alto, con l'altra mano prendo il dito indice, quello vicino al pollice, e lo tiro verso di me, verso il petto, respiro tre volte, uno, due, tre, lascio andare, stessa cosa sull'altra mano, la mano destra, palmo rivolto verso l'alto, quella a sinistra, prendo l'indice, e lo tiro verso il petto, uno, due, tre, lascio andare, sciolgo, perfetto, adesso facciamo un unico esercizio, che è da fare in piedi, andate vicino alla porta, aprite la porta, io ovviamente non posso spostarmi, quindi ve lo faccio vedere da in piedi, ok, immaginate che io sia sotto lo stipido di una porta, perché ho problemi poi con il cellulare per la ripresa, quindi, mi alzo in piedi, voi vi mettete sotto una porta, ok, la aprite, e ai lati vi aggrappate con le mani, le tre dita, con le tre dita, vi aggrappate ai lati, e lasciate il dito pollice, il dito indice, distesi in questo modo, i piedi sono chiusi, vicini, nella parte centrale, tolgo solo il cuscino, quindi immaginate che io sia aggrappata la porta, e poi portate il vostro peso verso il centro, in avanti, in questo modo, sicuramente se vi aggrappate bene, sentite tirare un po' le braccia, quindi è normale, respiriamo tre volte, uno, portate il peso in avanti, due, tre, poi, ritornate, dritti, in posizione dritta, prendete i piedi, e al posto di essere centrali, lì posizionate, ma solo i piedi, verso destra, le mani sempre aggrappate, alla porta, e anche il corpo, il peso, tutto verso destra, e sentirete tirare un po' in modo diverso, di nuovo in avanti il peso, uno, respiriamo, due, tre, e sciolgo le mani, e mi riposiziono al centro, dal centro, verso sinistra, quindi giro i piedi, mi aggrappo di nuovo alla porta, peso in avanti, ma verso sinistra, vado di nuovo, uno, se potete, chiudete gli occhi, due, tre, e sciolgo, perfetto, sciolgo la posizione, e ora, ci mettiamo in ginocchio, mi metto di fianco, così almeno, si capisce meglio, i miei glutei, appoggiati sui talloni, i piedi sono vicini, devo appoggiare, il capo in avanti, ma appoggio, prima la tempia sinistra, poi la tempia destra, quindi, appoggio la tempia, e faccio passare, sotto il capo, il braccio sinistro, in questo modo, il braccio destro, sopra, qui, in avanti, il capo, appoggio, la tempia sinistra, il braccio, vedete, passa sotto, ok, e l'altro braccio, il braccio destro, sopra disteso, chiudo gli occhi, uno, due, e tre, sciolgo la posizione, ora io mi giro, voi rimanete sempre con la posizione, così vi faccio vedere, cambiamo la tempia, quindi, appoggio la tempia, scusate, destra, terra, braccio destro che passa sotto, braccio sinistro che va sopra, chiudo gli occhi, uno, due, e tre, rimango sempre in ginocchio, ora le braccia, le distendo in avanti in questo modo, appoggio fronte e naso a terra, e bacino lo alzo, uno, due, due, tre, e torno indietro, perfetto, sempre in posizione in ginocchio, portiamo le braccia dietro, in questo modo, le giro, quindi, prima, i palmi delle mani sono rivolti verso l'alto, giro, ruoto le mani, e i palmi sono verso il basso, in questo modo, inspiro, espiro, dietro, porto, distendo bene più che posso, le braccia e le mani, tiro verso l'alto, quando devo andare un pochino più su, lo faccio sempre espirando, mi raccomando, quando sono arrivata, respiro tre volte, uno, due, tre, in questa posizione porto indietro anche il capo, in questo modo, uno, due, tre, rilascio, ora facciamo la stessa cosa con il capo indietro, le braccia e le mani dietro verso l'alto, ma prima verso destra e poi verso sinistra, qui, inspiro, espiro verso destra, uno, due, tre, sciolgo, ora, ora la stessa cosa verso l'altro lato, sinistra, inspiro, espiro, su e indietro il capo, uno, due, tre, e sciolgo, perfetto, dalla posizione in ginocchio, ci mettiamo seduti, pieghiamo le nostre gambe, le braccia le mettiamo dietro, ok, dietro i gluti, apriamo più che possiamo le nostre gambe, ok, i piedi danno le dita verso l'esterno, e prima una gamba, poi l'altra, tre, respiro in uno, buttiamo il ginocchio a terra, inspiro, io inizio dalla gamba destra, inspiro, anzi scusate, meglio sinistra perché così mi vedete, poi mi giro, inspiro, e spiro, porto in avanti, il ginocchio, la coscia, cerco di mantenere il contatto con la terra, uno, due, ricordatevi sempre il dolore, tre, e spiro, porto su, io mi giro così vedete anche l'altra gamba, ricordatevi come dicevo il dolore, se sentite il dolore, fermatevi, accennate anche solo l'esercizio, non andate oltre, non fatevi male, che non, se no tanto non serve, perché nel momento in cui sentite il dolore, i vostri muscoli, fanno questo, si restringono, quindi all'interno questi canali dove scorre energia non passano, quindi l'energia non scorre bene, non passa l'energia, e quindi non avrebbe senso, il muscolo deve rimanere rilassato, accettando il dolore, e torniamo un po' indietro, quindi gambe sempre aperte, mani dietro, posizionato quindi dietro la schiena, inspiro, e spiro, porto in avanti la coscia, il ginocchio, rimane a contatto con la terra se si riesce, respiro, uno, due, tre, e porto su, sciolgo, ora, andiamo a fare un esercizio simile, molto simile, a quello che abbiamo già fatto per il metallo, portiamo quindi il corpo in avanti, appoggiamo le braccia in avanti, una gamba la teniamo piegata in ginocchio, l'altra, così rimango dentro il futon, l'altra rimane distesa, i piedi, le dita del piede e della gamba distesa, vanno verso l'esterno, ok? Quindi porto al centro il mio peso, e il gluteo sinistro è appoggiato sul tallone sinistro, respiro, uno, due, e poi porto tutto il mio peso sul lato sinistro e espirando, quindi sentirete tutta la forza sul braccio e la mano sinistra, inspiro e espiro, il mio gluteo quasi è a contatto con la terra, uno, due, il braccio sinistro ovviamente ben teso, tre, e poi faccio la stessa cosa sull'altro lato, sempre rimanendo con questo ginocchio piegato, quindi inspiro e espiro tutto sul lato destro, quindi il mio gluteo si sposta verso destra, uno, due, se sentite un po' tirare, ma è sopportabile, accettate perché quello è il movimento, percepite proprio il meridiano, i meridiani, tre, e torno al centro, e adesso faccio cambio con la gamba, quindi gamba destra piego, metto in ginocchio, appoggio il gluteo sul tallone destro, l'altra gamba la distendo, le dita dei piedi vanno verso l'esterno, inspiro e espiro tre volte al centro, uno, due, tre, ora andiamo tutto a portare il peso con l'espirazione sul lato destro, inspiro e espiro tutto sul lato destro, rimango lì, vedete che il mio braccio destro è ben teso, non è piegato, uno, due, tre, e espirando torno al centro, inspiro e espiro tutto il peso sul lato sinistro, braccio sinistro ben teso, uno, due, tre, e espirando torno al centro, mi metto sempre in ginocchio, questa posizione, apro le ginocchia, glutei, a terra, i piedi, ok, sono sui fianchi, ma hanno le punte che sono verso l'esterno, in questo modo qui, ok, ginocchia larghe, le mani le appoggio dietro, vicino ai piedi, va bene, braccia tese, inspiro, e espiro tre volte, uno, due, tre, ora, stesso esercizio, rimando sempre in ginocchio, ma avvicino le ginocchia, e le dita dei piedi, verso l'interno, come se si volessero guardare, i piedi, le dita dei piedi, quindi ginocchia unite, e piedi che si guardano, se avete problemi in questa posizione, avete piacere di usare sotto i glutei, un cuscino, utilizzatelo pure, mani sempre dietro, accanto alle dita dei piedi, inspiro, espiro tre volte, uno, due, tre, e sciolgo, ora, vi ricordate all'inizio ho detto, prendete un cuscinetto piccolo, perfetto, questo è un esercizio molto semplice, dobbiamo prendere i nostri piedi, e appoggiarli proprio come vedete, sul cuscinetto in questo modo, e ci mettiamo tranquillamente in ginocchio, glutei sui talloni, mani le possiamo appoggiare sulle ginocchia, sulle cosce, spalle morbide, respiriamo tre volte, uno, due, e tre, perfetto, tolgo il cuscino, ora, ci mettiamo a pancia in giù, quindi in posizione prona, appoggiamo il nostro capo a terra, ma sempre dalla parte della tempia, quindi iniziamo con la parte destra, scusate, la parte sinistra, quindi appoggio la tempia sinistra al pavimento, le braccia sono lungo il corpo, prendo la gamba destra, la piego, e la porto verso il gluteo, in questo modo, respiro tre volte, uno, due, tre, tolgo la mano, lascio andare la gamba, la distendo, giro il viso, quindi appoggio la tempia destra, e lavoro sulla gamba sinistra, piego verso il gluteo, uno, due, e lascio andare, mi giro sul fianco, e mi metto a questo punto invece, supina, quindi a pancia in su, con i piedi distesa, con i piedi appoggiati al muro, quindi avvicinatevi al muro, semplicemente in questo modo, piedi ben appoggiati la pianta al muro, ben distesi, braccia lungo il corpo, perfetto, respiriamo in questa posizione tre volte, uno, due, tre, poi piego le gambe, apro i piedi, e tengo solo uniti i talloni, mi avvicino quindi un po' al muro, spingo verso il muro, piedi aperti, uniti i talloni, gambe piegate, cerco con la mente, di immaginare che le ginocchia, tocchino sempre di più, verso terra, uno, tre volte sempre di respirazione, due, tre, perfetto, sciolgo la posizione, rimanete sempre, supini, e io mi sposto un attimo così, magari vedete meglio la posizione, quindi sempre con pancia in su, gambe distese, lavoriamo prima adesso con la gamba destra, prendo la gamba destra, la piego, e porto il piede vicino alla coscia, vicino al fianco, e le dita del piede danno verso l'esterno, se riesco, prendo le braccia e le metto dietro, a fianco delle orecchie, uno, due, tre, sciolgo le braccia, gamba distesa, stessa cosa dall'altra parte, quindi, inspiro, espiro, piego la gamba, dita del piede verso l'esterno, piede appoggiato vicino alla coscia, se si riesce braccia, se riusciamo, che non abbiamo dolore, distese dietro, a fianco delle orecchie, uno, due, tre, distendo di nuovo la gamba, distendo le braccia, stesso esercizio, ma col piede messo in una posizione un po' diversa, piego, quindi, le dita del piede vanno verso l'interno, più che si può, vedete, il piede quindi è proprio a fianco della coscia, è di nuovo uguale, distendo dietro le braccia, uno, due, tre, sciolgo, stessa cosa dall'altro lato, prendo, piego la gamba, il piede con le dita verso l'interno, distendo le braccia, uno, due, tre, sciolgo, mi giro su un fianco, lentamente, ci mettiamo in ginocchio, e facciamo il famoso esercizio della B, che nella sequenza base di esercizi, troviamo per lavorare sulla terra, quindi mi metto in ginocchio, glutei sopra i talloni, inspiro, e spiro, mi faccio spazio con i glutei tra i talloni, quindi allargo i piedi, glutei a terra, inspiro, e spiro, vado indietro, con la schiena, appoggio bene l'avambraccio a terra, appoggio i gomiti a terra, respiro tre volte, ricordatevi di arrivare fin dove riuscite, uno, due, al terzo ispiro, se ce la faccio, appoggio la schiena a terra, distendo le braccia dietro, mi rilasso, uno, arrivate fin dove riuscite, non abbandonate l'esercizio, piuttosto rimanete in ginocchio, respirate, uno, due, tre, sciolgo la posizione, prendo il cuscino, mi metto sul fianco, prendo il cuscino, quello lungo, sempre supini, appoggio il cuscino alla base della schiena, inizio glutei, prendo tutta la schiena, e l'appoggio sul cuscino fino al collo, e ho il capo fuori dal cuscino, quindi abbiamo il bacino quasi, e tutta la schiena rialzata da terra, di circa 10 cm, oppure dipende dal cuscino che avete, oppure mettete una coperta arrotolata, braccia distese lungo il corpo, e respiriamo, uno, due, rilassatevi, tre, alzate leggermente un po' sul fianco il vostro corpo, togliete il cuscino, e rimanete supini, sempre in questa posizione, io mi metto seduta, perché adesso è il momento del relax, quindi non abbandonate la posizione, rimanete supini, rimanete sdraiati, prendete per chi ne ha bisogno una coperta, e ci rilassiamo per qualche minuto, perché tutti gli esercizi sono terminati, quindi posizionate bene il vostro corpo, rilassate bene ogni singola parte del vostro corpo, portate l'attenzione al respiro, all'aria che entra, raggiunge delicatamente l'addome, l'addome si gonfia, e poi percepite l'aria uscire, l'addome si sgonfia, e l'aria esce dal naso o dalla bocca, respirate profondamente, lasciate andare ogni tensione accumulata durante la giornata, rilassate ogni singola parte del vostro corpo, a partire dalla cima del capo, ai muscoli del viso, rilassate il collo, le spalle, rilassate le braccia, che sono morbidamente posizionate lungo il corpo, e hanno le mani con i palmi rivolti verso l'alto, e respiro profondo, la schiena è distesa, cerchiamo di raggiungere il più possibile il contatto con la terra, a partire dalla parte alta in corrispondenza del pezzo, fino a raggiungere la parte bassa in corrispondenza dell'addome, rilassate i fianchi, le gambe, sono morbide, non incrociate, i piedi li lasciamo andare nella loro posizione naturale, respirate profondamente, il respiro profondo raggiunge delicatamente l'addome, l'addome si gonfia, e poi lentamente l'addome si sgonfia, l'ombelico si ritrae, verso la spina dorsale, e l'aria fuoriesce dal naso o dalla morta, il respiro è profondo, intenso, percepisco l'energia che entra, che raggiunge l'addome, l'addome si gonfia, percepisco il relanzo, percepisco magari dei dolori, li accetto, dei fastidi, li accetto, ma li lascio andare, accetto tutto ciò che arriva, e lascio andare, accetto tutto ciò che arriva, e il respiro è profondo, quando me la sento, inizio a fare dei piccoli e dei movimenti, con le mani, con i piedi, e se me la sento, apro gli occhi, e faccio un bel sorriso, bene, siamo giunti anche oggi, al termine di questa meravigliosa lezione, vi ringrazio tantissimo, per essere stati con me in compagnia, e vi consiglio, di provare da oggi, per ogni giorno, fino alla prossima settimana, quindi fino all'unedì, questi esercizi, gli esercizi della terra, per armonizzare il vostro corpo, ma il vostro spirito, la vostra energia, perché noi abbiamo bisogno, in questo momento, di ritrovare il più possibile, l'equilibrio, quindi i problemi ci saranno sempre, come dico, ma, se siamo in equilibrio, i problemi li vediamo in modo diverso, e li affrontiamo, soprattutto in modo diverso, se avete qualsiasi domanda, qualsiasi tipo di problema, mi potete contattare, ci sono tutti i miei riferimenti, sulla mia pagina facebook, sulla mia pagina privata, quindi non mi fate problemi, io ci sono, vi aspetto, per l'incontro di domani mattina, alle ore 11, che per questa settimana, c'è una novità, domani vi parlerò di Reiki, conosciamo Reiki, l'appuntamento sarà per le 11, durerà circa una mezz'oretta, vi spiegherò che cos'è questa disciplina fantastica, che cos'è Reiki, e faremo al termine una piccola meditazione, basata proprio su Reiki, quindi mi raccomando, vi aspetto domani mattina, ora le trasmissioni continuano, su We Like Volvera, proprio adesso alle ore 18, ci sarà la Baby Dance, della Magic Dancing, quindi mi raccomando, soprattutto ai bimbi, numerosi, non perdetevi questo meraviglioso appuntamento, quindi a presto, un grandissimo abbraccio, Namaskar, a domani mattina, We Like Volvera!